cose cogliardiche ci siamo ecco la mystery box americana comprata su amazon per voi quindi tra poco andremo ad aprirla vado un attimo in bagno a fare pipì e arrivo subito ma 30 euro ma sicuramente uscirà un cazzo di gomma per arturo vai giù sicuro sicuro come la morte la nostra mystery box questo togliamo gula foro a da dove iniziare goliardici da dove iniziare da dove iniziare non è food e drink non è food e americano assaggi di roba americana allora vediamo un po vediamo un po cosa abbiamo a questo cos'è a posto ok mi stava un attimo sciunendo ragazzi allora dobbiamo un attimo decide una cosa alla volta la cosa alla volta cosa mangiare ok allora io andrei all'assaggio di questi di questi oligan pretzel crash sgrin raccia non so cosa vuol significare ma comunque sgrin raccia non so cosa sono ma madrelingua proprio americana direi madrelingua americana ma che cazzo ma che sono crocanti 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 Non so, sembra buona Tipo Tipo la salsiccia Sembrano buone Non so pure a quanto Tipo salsa messicana Mangiabili Mangiabili Però non mi sembra la cibo americana L'americano secondo voi Vuoto secondo me Aspetta che ve lo dico un'altra volta Aspettate Aspetta aspetta Sette e mezzo È buono, giusto? Allora, sembra Una salsa peperoncino di qualche cosa strana Pio messicana Non male Sette e mezzo Adesso Mettiamo qua Allora, continuiamo sul salato Ovviamente Aspetta 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 C'è anche La dottor pipper Dottor pipper Poi abbiamo Poi abbiamo Abbiamo la La coca cola La vaniglia Ma che cazzo è la coca cola La vaniglia Ma che schifo Io Questa è pisciata e cammella La dobbiamo provare ragazzi La dobbiamo provare Eh, per forza No, no, quando mai È congelata Stava nel frigo Tutta la box Vai giù Qua la calda La dobbiamo provare ragazzi Sostanzialmente è coca cola Sembra coca cola Un po' sfiatata Sì, è un po' sfiatata No, non è neanche che è sfiatata Con retro gusto di vaniglia Buona Onesto, buona Questa qua non so se la assaggiamo Dottor pipper Vediamo dopo Buona, buona Vuoto Otto Buona, buona Dovevo dire buona No, no, no È fredda Vai giù Vai giù che è fredda Come faccio a favore Va bu Allora Andiamo a assaggiare Eh, vai giù Questi Questi qua Questi qua sono buoni Secondo me, eh Questi qua Sono i Nachos Chili Paprica Nachos Chili Paprica I Patriotios Patriotios Va bene Andiamo a provare questi Nachos Chili Paprica Non so Come sono Da consumarsi Preferibilmente Entro il 0602 2024 Quindi Stiamo coperti Porco Dio Ma che Ma io Oh Vabbè Ma quale sponsor Sponsor di che cosa Uno un po' Cattonana Ma io Guardate che Quando c'è una sponsor Nel titolo C'è Hashtag Ad Per legge Ci deve sta Quindi Se non c'è State tranquilli Volete uno? Volete uno? Volete uno? No Con gli Erdici No Eh Solo io Solo io So Buono Su Amazon Lo pesa Uno tira L'altro È buonissimo Io Vuoto Nove Uno tira l'altro Nove Questa Nove 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 Voto nove Asp Voglio assaggiare un attimo I prezel Per vedere se Può comparare A questo Un attimo Nå Appagato Che duele indi Siamo Spagnidino ok sono la lingua che mi brucia ok puliamoci sulla maglietta continuiamo con il salato io direi amici di twitch amici con uno sgarro non vuol dire che uno è in grassa ok io se voglio li mangio tutti signori ok io tutti li mangio tutti ok sono 75 grammi no vai giù mi sa che abbiamo le patatine da 10 siete pronti signori le patatine cheese onion flour olio freddo addosso signori fritto a quanto che mi esce un puteolano ok ok madre sanda madre è un porno è un porno sto pacchetto di patatine è un porno è un porno è un porno questo fa paolo questa è una dieta americana signori è un porno mamma mia buono cazzo è certo che ho finito ma 40 grammi di paladini non so niente non so niente non so niente non so niente 10 10 voglio 10 10 10 voglio i valori nutrizionali di queste patatine a parte che stasera non ho mangiato non ho fatto neanche lo spuntino appunto per mangiare questa cosa voglio dire una cosa è da tanto tempo che non facevo questa cosa ok erano 8-9 mesi adesso non mi rompete di coglioni per una volta che lo faccio un content in live ok ma mi rompete di coglioni secondo me per un giorno per un giorno rimetto 40 kg ma state male state male secondo me rimetto 40 kg in un giorno state male ma vedi che siete stupiti siete cretini vedi che siete cretini franco c'è capito niente colosce per un giorno per fare un content per un giorno ingresso 40 kg qua ma è che sono una vacca ci facciamo da 6 xl sono passato a 2 xl questo è 2 xl sta maglia 2 xl e mi fa pure vedi mamma mia mamma mia che stupitaggini che le sto leggendo ma lo sai che è lo mangi pure questo e la fammuc e la fammuc ma non è sgarro settimanale io non lo faccio ogni settimana ma io lo sgarro lo faccio quando non ho bisogno il male è mio cazzi mio ma io non sto facendo nessuna di sto mangiando cibo sano per una volta che voglio fare una cosa diversa fatti lì cazzi tua fatti consigliare dal ciccio gamer non sto dicendo niente bravo ragazzi ho detto solo ciccio gamer può essere chiunque gamer chiunque ciccio gamer può essere mica c'è solo uno sai quanti francesco si sono non ho specificato altri numeri ma era diverso se dicevo anche dei numeri ma ho detto solo non è nessun dissi non è dubbio dirlo alla mamma dirlo all'avvocato puliamoci addosso visto che questa challenge è goliardi bene signori vediamo cosa c'è qua sotto oh 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 cos'è 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 che cazzo è vediamo se c'è altro di salato mi sa che il salato è finito il salato è finito nooo ma che cos'è ma che cos'è la scuteca oh my god sono 7-8 mesi che non mangio sta roba potrei sborrare ve lo dico mi fanno male questi cazzi si fra 5.000 calorie in 30 minuti ma oggi ne avrò bruciate 7.000 tranquillo assaggiamo il nostro tronchi allora ragazzi viene un bito bello oltre a fare una bella cagata fumante e profumata non succederà niente maestro quando faremo la mystery box puteolana non so di che sa non so non so è croccante è basso apriamo anche la Dr. Pepper signori vorrei provare anche la Dr. Pepper ma se c'è A B C D E F F Fabus Sì A Sì 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 Ma è una pozzia raffidosa Mamma mia E' acqua Tipo acqua sporca Che cazzo ne so Tipo acqua con un po' di orzata dentro Boh non lo so Sembra liquido Liquido vaginale Mi dissocio No 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 se ha scherzato Non è berto Ulepi buono ho fatto una battuta la stavola è calda è buona sostanzialmente è buona però a primo impatto ti piglia che cazzo è sto roba acai aichev che cazzo è sto roba aichev 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 sono scadute sono scadute ah no che anno siamo? ah 2023 2022 2022 stavamo nel 2024 pensavamo ah buon affanculo allora assaggiamo assaggiamo queste palle che palle mamma mia asprissime va giù ma un'asprasità troppo esagerata un'asprasità troppo esagerata va giù mamma mia mamma mia che schifo che schifo che schifo questi no zero bla 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 zero 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 una asprasità troppo esagerata ma come si fanno a mangiare mangiare un'anghiatura che si mangia sta pallina e sta fuori con canna e rimane così cioè voi non sapete che sta americana che non ha fondato sti pallini che fa fuori con canna c'è no caramella basta allora c'è questa cosa che cos'è questo guovutales oreo che cazzo è come cosa dimocca Ma come? Ma non credo No Ma c'è capito se pare oreo O sembra latte O sembra la cacca di cammello Non è che io abbia assaggiato la cacca di cammello Dai però Ma 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 Quick milk Che sono ste cose? No Value No Per il latte queste sono No E non c'è latte E queste qua si mettono nel latte E' latte in polvere a cioccolato Nah Non è possibile Non è possibile Nah Vabbè ragazzi No Per la cosa Dobbiamo assaggiarlo No 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 No, 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 no. ah se non sceglie il latte e abbo ma uno vuole mangiare così dobbiamo constatare se funziona eccola questa è la mia cosa di heart attack ok va fanno schifo allora andiamo un po' un po' sul salato spacchiamo un poco spezziamo un po' il sapore abbiamo questi penne chilling sempre della patria ok spezziamo un po' il sapore spezziamo un po' il sapore ma con un abuso non sono buona sono buona sono buona ragazzi si sono buona 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 è buona 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 e' un attimo suolo No, piccante Poco poco Ho giusto una punta Sono refreshing Allora, adesso Assaggiamo Che cazzo è questo? No, ma come facciamo il gnocco? No, no, ma che sto sticcoso Ma come il gnocco? Vai giù Scusate È zucchero filato? Siete sicuri? Siete sicuri Siete sicuri Guarda tipo Lovato No, scrivezza No, no, non mi piace proprio il zucchero filato Non assomiglia proprio Non assomiglia proprio Ma andiamo su un classico Che cazzo sono? Che cazzo sono? Andiamo su un classico Ma sono comestibili No, 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 non mi piace proprio il zucchero filato No, no, non mi piace proprio il zucchero filato Guarda come sto mangiando i pasticcoso Ma come sto mangiando Ma Ma Mistero Mistero signori Non si è mossa Dice che è una gamma È una gomma Sono gomme È una gomma Una gomma un po' dolce di Tropical punch Questo è il punch Direi alquanto due Vuoto due Direi Vuoto due Fanno schifo Allora andiamo avanti Abbiamo 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 Il bombolone al melone No Abbiamo il Colla hide Ma che è che? Oh signora Ma che sta buona Ma come è bella e buona Fai sì Dove si mette a trapanare A quest'ora Ma mica può trapanare Tutte le ore Ma io Questa è roba Questa è roba Ma che è roba ah 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 son trasformato l'aquila ah 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 ma che roba è che schifo che schifo sembrava una figa cioè no sembrava una foca in una foca in calore no stavo dicendo una figa vabbè ah stasera le cose ah oggi assaggeremo questo duvalin duvalin nuova bustina per vuoto zero comunque duvalin duvalin non so mi s'ergo mu s'ergo dal su duvalin che cazzo è solo ma che lei? ma che lei? voi documenti che piacere? è buono cazzo un tipo cioccolato e fragola, buonissima no no, è tipo spammabile ma io lo diabete stasera sta facendo feste ma io lascia tu stava, va facendo festeggiare una volta all'anno no che lo diabete mi sta sbattendo in mano bravo, bravo, bravo che cosa è? andiamo a provare andiamo a provare questo, questo comunque vuoto 8 quella barrettina di cioccolatina andiamo a provare questo la volete la mystery box signori? la volete? la volete? allora intanto usate nel gruppo telegram delle offerte amazon ve lo metto lì ok? ve lo metto nel gruppo telegram delle offerte amazon è stata fatta apposta e questo è vero il gruppo puro 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 ok signori sto per droppare il link è di amazon perfetto 3, 2, 1, 4, 5 ho messo ragazzi allora stagiamo questo maestro l'amo vedi ma i miei memes tipo quello si tipo quello si alla chiusura c'è il pezzo forte secondo me un po' di torta a papper oh my god oh my god oh my god oh my god Gena stava dietro maestro virgola undici mesi insieme ma questi cibi americani c'è il gusto pocchiata o il gusto solfatara a parte tutto sei un grande continua così minore di tre minore di tre minore di tre a te gabris dieci dieci ragazzi dieci 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 A Kinder non sbaglio mai Allora sono rimasti I pappocorn al burro Se volete li andiamo a fare E ce li manciamo Se volete Oppure me li conservo per qualche film Con gli antico Oppure li facciamo Nei microonde si fanno Che dite? Le devo fare secondo voi? Le devo fare? Si si possono ancora guardare No voglio Non lo faccio più Non è che mi mangio una volta Quando mi mangio più sta roba Ah sono rimasti Queste caramelle Passaggiamo Queste caramelle Allora che schifo ma come si fanno a mangiare sta roba? come si fanno a mangiare sta roba? dicetemela voi come si fanno a mangiare? io sapete quando mi mandano dei getti potenti di limone in bocca in un punto preciso 100 litri di limone in un punto preciso così vaiù e friggeva capito? c'è milioni di limoni così vaiù bruttissimo che schifo ma come si fanno a mangiare sta roba? ma mamma mia ma mamma mia sta girando Ah, da giurano! non è tanto assai tanto assai tanto assai assai Che schifo Voglio essere un attimo bubo E voglio lo zucchero Che mi fa un attimo incedere E questo è lo zucchero Udiabed sta festeggiando No no giapponese Lo facciamo tra due settimane Sì sì Devo un attimo recuperare tutto Due o tre settimane Quando ce l'ho in frigo Ho messo in gruppo Telegram delle offerte Ho messo il link dalla box L'ho rimesso L'ho rimesso E' il link del robot No il link del robot Te lo metto domani Ancora non ho finito Telegram No non puoi entrarci No dove facciamo la ruota E niente è finito tutto Ma un po' dell'utente Dobbiamo andare a fare i popcorno Che dite? Vogliamo provare i popcorno? Dobbiamo provarlo ragazzi Cioè che fa? Mystery box Non proviamo i popcorno Ho provato tutto Solo quelli devo provare No non piangete Non agite niente Ah che è i popcorno Non metto la chiagna Va bene Siccome stasera sono cogliardi Signori Pure i popcorno Sanno una sapeffa Morita la presa Però Gli alert non ci sono E' in cucina Quindi Non ce ne sono No No Grazie a tutti.